Cinsella Festival a Grottaglie, presso le cave di Fantiano, 12, 13, 14 e 15 agosto. Parliamo con Mimmo Battista di Afosei di questa quarta edizione. Quali le caratteristiche? Immagino che già sia stato uno sforzo realizzarla alla luce delle ristrettezze imposte dalla normativa anti-Covid. Sì, assolutamente. Quest'anno è una vera impresa. Noi siamo tra i pochissimi festival in Italia che comunque hanno il coraggio di osare. E quindi siamo ben contenti, ben lieti di continuare su questa strada, regalando comunque, secondo noi, anche quest'anno un appuntamento di livello. Ovviamente abbiamo dovuto ripiegare su, essendo noi un festival di musica e immagini, abbiamo dovuto conciliare cercando di trovare il meglio che c'era sulla piazza. E secondo noi, quest'anno, il meglio che poteva coniugare il cinema e la musica era proprio Antonio Diodato, che sarà il 15 agosto, il giorno di ferragosto. Sono rimasti veramente pochissimi biglietti, sicuramente faremo sold out, con una capienza intorno alle 1.500 persone. E quindi proprio Antonio coniuga questo discorso, diciamo, le nostre caratteristiche, che sono quelle della musica e delle immagini, avendo vinto anche il Davide Donatello per la migliore canzone originale. Altri artisti? Allora, avremo, innanzitutto ci saranno diversi film di carattere internazionale, mi piace sottolineare ad esempio Le Shock du Futur, con la presenza del regista che verrà da Parigi, Marco Lenn, ed è una presenza prestigiosa, visto che Marco Lenn, anche dal punto di vista musicale, è molto conosciuto per essere il leader, diciamo, di un gruppo che si chiama Nouvelle Vague, che è molto conosciuto in Europa. E quindi siamo veramente orgogliosi di questa cosa, perché appunto prenderà questo bell'aereo e verrà da Parigi. Ma abbiamo anche un appuntamento molto importante con Guano Padano, che suoneranno da Morricone a Bob Dylan. Ci tengo a dire che l'abbiamo ingaggiato prima, che Morricone, il maestro Morricone, venisse a mancare. E quindi ci abbiamo visto anche abbastanza giusto rispetto un po' al discorso cinema. E poi avremo il giorno 14 il concerto di Bud Spencer Blue Explosion con Andrea Laszlo De Simone, che sono due tra i più grandi rappresentanti del rock italiano. Anche qui abbiamo venduto tantissimi biglietti. E poi ci sarà la performance di Maa Marias giorno 13 agosto. Ci tengo veramente a dire che quest'anno abbiamo fatto degli sforzi incredibili. Stiamo cercando di... Stiamo cercando sicuramente... Ci atterremo a tutte quelle che sono le disposizioni in materia di sicurezza, in materia di Covid, in totale sicurezza. Perché appunto le cave di Fantiano sono un posto che, proprio per spazi, proprio per caratteristiche, consentono la possibilità di adempiere a tutto quello che ci viene. Distanziamento e quant'altro. Distanziamento, ma anche, ecco, una cosa ci tengo a dirla, avremo in collaborazione con Inel, che è uno dei nostri partner, e se mi dai 30 secondi, poi veramente voglio parlare dei nostri partner, perché è veramente fondamentale. Regaleremo appunto a tutti quelli che parteciperanno una mascherina personalizzata, molto molto bella, del Cinzella, che sarà il gadget dell'estate, secondo me. Quindi è una cosa molto molto bella. Ecco, parlavamo di partner. E' veramente con grande orgoglio che voglio sottolineare quelli che sono i nostri partner, i nostri sponsor. Innanzitutto il main sponsor Peroni, attraverso il marchio Raffo, che tutti conosciamo. Ma avremo anche altri sponsor di carattere nazionale, come Coop, come Riomare, e come anche Cotarras, che ci dà una grossa mano, ma soprattutto dal punto di vista mediatico abbiamo veramente la grande soddisfazione di avere al nostro fianco SkyArte, che crede nelle potenzialità del posto delle cave di Fantiano, ma anche dell'organizzazione del festival. E poi abbiamo, dal punto di vista radiofonico, la radio ufficiale, che sarà RDS 100% successi, dove nei prossimi giorni ci saranno degli spot che abbiamo realizzato. Quindi sarà un orgoglio sentire il Cinzella Festival a livello nazionale essere proposto. Altri partner molto importanti, ad esempio voglio ricordare a Corsini, insomma, che ci dà sempre una grossa mano. Quindi, ecco, come puoi vedere, c'è davvero una gran bella squadra. Ci sono degli sponsor di livello nazionale che credono, soprattutto a parte il discorso organizzativo, che comunque ormai è unanimemente conosciuto, riconosciuto, credono proprio nel valore culturale di quello che facciamo. E posso garantirti che non è assolutamente semplice avere al fianco dei partner così di livello, perché comunque loro studiano i festival, sanno quei festival, conoscono quei festival, che possono garantire la massima evidenza al loro brand. Grazie a tutti.